Il termine produttività in economia è un termine ormai chiave, diventato quasi direi un termine comune che non è solamente utilizzato nello studio specifico dell'economia politica ma nel dibattito della politica e anche dei media. Fa riferimento generalmente alla capacità di un sistema di produrre ricchezza. Erroneamente, generalmente, ci si riferisce alla produttività come se fosse solo del lavoro, si parla di produttività del lavoro. Sarebbe invece più giusto considerare che molti fattori produttivi, basta pensare per esempio al capitale, determinano la produttività di un sistema e che l'insieme delle regole e delle istituzioni che caratterizzano un sistema economico complesso interagiscono con il lavoro e il capitale per generare produttività. Oggi, se noi dovessimo riflettere sulla organizzazione dei sistemi economici complessi e sulle regole che ne possono determinare miglior funzionamento, dovremmo cercare di dipanare la produttività del lavoro da quella del capitale per identificare vincoli ed opportunità che i sistemi economici possono presentare. Grazie 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 Grazie